Per la festa di Pasqua, quando giunse l'età di 12 anni salirono secondo l'usanza della festa e passati i giorni della festa mentre tornavano il bambino Gesù rimase a Gerusalemme all'insaputa dei genitori i quali pensando che egli fosse nella comitiva camminarono una giornata poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato tornarono a Gerusalemme cercandolo tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri li ascoltava e faceva loro delle domande e tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto così ecco tuo padre dio ti cercavamo stavamo in gran pena ed egli disse loro perché mi cercavate non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio ed essi non capirono le parole che gli aveva dette loro poi discese con loro andò a Nazareth e stava loro sottomesso sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a dio e davanti agli uomini signore parla ai nostri cuori apro una parentesi che mentre leggevo pensato Gesù che era dio era sottomesso ai suoi genitori diciamo non è neanche corretto dire biologici diciamo i suoi genitori terreni carnali quanto più dobbiamo pregare signore facci essere sottomessi ai nostri genitori ora questo passaggio ci parla di questa disavventura io non so chi di voi ha mai fatto l'esperienza di perdersi un figlio su una spiaggia in un centro commerciale ricordo anche qualche gita della scuola domenicale è una cosa bruttissima è un'esperienza da non augurare a nessuno è un'esperienza che ti getta nel panico nella paura però è anche un'esperienza che ci fa riflettere su quanto sia contraddittorio perché i figli sono tutto per noi sono l'oggetto del nostro amore l'oggetto della nostra attenzione come genitori responsabili credo che sappiamo bene qual è il ruolo che abbiamo eppure abbiamo sentito ancora questa settimana l'ennesima notizia di una bambina morta di caldo perché è dimenticata nell'auto da suo padre che è andato al lavoro ora è una cosa che ci fa un po' rabbrividire no ci distrugge umanamente ma potremmo anche giudicare questo padre questa madre dire ma come si fa a lasciare un figlio una figlia dimenticarsela nella macchina chi ha figli tranquilli io non ho non ho mai provato questo perché ma chi ha figli tranquilli che nella macchina fanno i bravi potrebbe anche a me impossibile perché l'allarme è incorporato proprio dentro di loro però pensavo a questa contraddizione no l'oggetto più caro del tuo amore dimenticato il motivo per cui vivi la cosa più preziosa che hai fratelli con tutto il rispetto per Eugenio non parliamo di un marsupio di un portafoglio non stiamo parlando di cose materiali qua stiamo parlando di affetti stiamo parlando di figli è qualcosa che è impossibile che si distacchi dal tuo cuore dalla tua mente eppure è successo e voglio dirvi che è successo nella migliore famiglia nella famiglia di Giuseppe e di Maria quella che abbiamo davanti in questa mattina che è per una distrazione persero Gesù io ho un messaggio fratelli da trasmettervi con tutto il cuore è un messaggio che ci deve imporre una riflessione e io spero anche una resa e spero anche una nuova consagrazione una nuova preghiera perché la presenza di Dio e la benedizione di Dio nella nostra vita non sono qualcosa di scontato Dio ci ha donato la salvezza gratuitamente non l'abbiamo pagata Dio ci ha donato il suo spirito Dio ci ha chiamati senza meriti al suo servizio la sua benedizione ci viene accordata non per i nostri sforzi ma perché lui ci ama ma questi doni che Dio ci dà hanno bisogno di un senso di responsabilità perché Dio ce li dona ma noi dobbiamo tenerli stretti nella nostra vita non possiamo pensare assolutamente che siccome abbiamo ricevuto gratuitamente posso dire facilmente siccome ci basta alzare lo sguardo e ricevere la benedizione il perdono le forze la benedizione la riabilitazione non corriamo il rischio di pensare che siccome Dio è buono il cielo è aperto il Signore ci benedice noi possiamo essere superficiali con queste cose perché il nostro Dio è un Dio santo 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 è buono ma è anche un Dio giusto per distrazione succede a tutti di distrarsi anzi voglio dirvi una nota di medicina che la distrazione è un fatto fisiologico noi abbiamo bisogno di distrarci anche il bambino che voi richiamate perché è distratto in realtà c'è un meccanismo psicologico per cui la distrazione serve al bambino per rafforzare dei concetti e impararne alcuni nuovi quindi c'è una forma di distrazione che è psicologica ma ci sono distrazioni che non ci possiamo permettere perché alcune distrazioni costano anche la vita tu ti puoi distrarre mentre stai facendo un discorso a tavola e non succede niente il discorso lo riprendi ma se ti distrai mentre stai viaggiando a 140 all'ora su una macchina penso che è un po' più rischioso così puoi distrarti mentre stai seguendo leggendo qualcosa e non è un problema ritorni sulla pagina la leggi di nuovo e quella distrazione è stata solo una piccola perdita di tempo ma se stai servendo il signore certe distrazioni potrebbero essere un epilogo non facile della tua vita pensate a giuda che ha perso un attimo la bussola ha guardato i soldi piuttosto che a gesù e dice a bibbia che non c'è stato più niente da fare si è andato a suicidare ora fratelli voglio parlarvi di questo nemico che è la distrazione oggi abbiamo tante fonti di distrazione si è sempre detto quando io ero ragazzo sentivo i pastori predicare il mondo sta entrando nella chiesa io voglio dirvi che oggi il mondo ce l'abbiamo fin dentro le camere da letto il mondo ce l'abbiamo addosso tutti i giorni e siamo continuamente distratti e presi da ciò che sta togliendo l'attenzione su ciò che è necessario molti distratti dai social perdono la bellezza dell'amore fraterno molti distratti dalle cose di questo mondo perdono l'essenza della benedizione di Dio io voglio dirvi fratelli che Maria e Giuseppe amavano Gesù ci credete gli volevano bene ci tenevano a Gesù lo stavano crescendo come si dice a Napoli gli stavano dando tutto quello che avevano ma nonostante lo amassero se lo persero io voglio dirti che non è vero che tu non ami Gesù io ci credo che tu ami Gesù io credo che tu ami la parola di Dio io credo che noi tutti amiamo l'opera di Dio dovreste dire un amen più corale tutti noi amiamo servire il Signore amiamo quello che Dio ci ha affidato eppure l'amore non ci sottrae dal rischio della distrazione allora io voglio dire ma perché si distrassero Giuseppe e Maria quale fu il motivo per cui un amore così grande una passione così grande viene in qualche maniera turbata dalla distrazione credo di leggere in questi versi il motivo dice che Maria e Giuseppe tutti gli anni avevano una cosa che si chiama abitudine salivano a Gerusalemme per la festa della Pasqua guardate le frasi ogni anno secondo l'usanza come consuetudine cosa vi fa pensare che per Giuseppe e Maria salire a Gerusalemme per la Pasqua non era un evento tanto importante diverso sul quale metterci amore entusiasmo organizzazione programmazione era diventato secondo lo scrittore biblico probabilmente Maria quando ha partorito Gesù aveva intorno ai 20 anni qualcosa in più aveva Giuseppe Gesù teneva già 12 anni erano 30 anni per dirla un po' così grossolana che facevano la Pasqua a Gerusalemme tutti gli anni state seguendo? perché è importante quello che ho nel cuore quel celebrare la Pasqua era diventato qualcosa di abitudinario era normale per loro sempre le stesse persone stessi posti stesso rituale se siete interessati a vedere come si celebrava la Pasqua lo trovate abbondantemente nella Bibbia era diventata una sorta possiamo dirlo di abitudine di ritualità o se vi piace di più di religiosità quando tu ti incammini in questo pericolosissimo nemico di Dio perché la religiosità è un pericolosissimo nemico tu vivi la tua vita cristiana come un'abitudine il culto lo fai o non lo fai è uguale preghi va bene così è una consuetudine è un'abitudine e quando noi ci abituiamo a certe cose l'abitudine ti porta a fare le cose in un modo meccanico senza l'entusiasmo senza inventiva senza cuore Giuseppe e Maria amavano Gesù ma per loro era più importante l'assolvere certi compiti piuttosto che quello che questa festa significava pensate un po' a come ci distraiamo per abitudine quando compri un cellulare nuovo ci metti la cover la pellicola te lo allisci lo tieni sul mobile perché l'hai appena comprato passa due o tre mesi e mi ho detto macchina nuova guai non si mangia la macchina ricordo ho comprato la macchina non mangiate oggi a un ristorante McDonald's la macchina purtroppo questo succede anche nelle relazioni all'inizio di una relazione che può essere marito e moglie che può essere due amici può essere anche due collaboratori nel servizio cristiano due fratelli in Cristo all'inizio c'è quell'entusiasmo di scoprire di andare di vedere poi ci si abitua ci si conosce si vive un rapporto dove si dà tutto per scontato ci si abitua io non mi sono abituato alla benedizione di Dio perché ho scoperto che quando la benedizione di Dio arriva c'è sempre qualcosa di nuovo e può succedere la domenica può succedere un grande raduno ma può succedere anche una preghiera dove siamo in cinque perché Dio non è abitudinario l'uomo è abitudinario è distrattivo per il suo scadere nell'abitudinarietà ma Dio non conosce abitudini Dio ogni giorno se ci credi dici amen fa nella tua vita qualcosa di originale di nuovo e io credo credilo e ricevilo nel nome del Signore che Dio sta preparando per te qualcosa di speciale di nuovo di originale Dio con te non farà la fotocopia ciò che sta avvenendo nella tua casa e nella tua vita ti sta preparando a qualcosa di glorioso che Dio vuole fare perché Dio nostro non è lì Dio dell'abitudine il nostro Dio ama sorprenderci un giorno Manoà disse qual è il tuo nome quando ricevette la notizia che avrebbe abbracciato un figlio lui che era sterile e l'angelo gli disse perché chiedi il mio nome il mio nome è cosa gli disse il suo nome racchiude ciò che lui fa esso è meraviglioso sai cosa significa io sono colui che ti meraviglia che faccio cose straordinarie io a questo Dio straordinario voglio dare tutta la gloria non è un'abitudine il tuo rapporto con Dio non è un'abitudine la tua vita di preghiera il tuo servizio non si può limitare al marcare un cartellino all'adempiere delle esigenze io e te siamo al servizio del re dei re del signore dei signori è un pericolo l'abitudine perché ci porta alla distrazione e la distrazione ci fa perdere Gesù ci fa perdere la grazia ci fa perdere la benedizione ci fa perdere i rapporti fraterni ci fa perdere la bellezza di stare insieme Sansone era abituato a vedere la potenza di Dio all'opera nella sua vita quante imprese aveva compiuto a tal punto che trascurò la sua comunione personale con Dio leggete nei capitoli di Giudici capitolo 14 capitolo 15 capitolo 16 non c'è una preghiera di Sansone non pregherà mai Sansone pregherà solo alla fine quando gli caveranno gli occhi davanti a una macina che stava girando e dirà signore ricordati di me Sansone era abituato al fatto che serviva a Dio che aveva potenza che aveva vigore dovunque andava riusciva e questa abitudine lo portò a trascurare la preghiera la comunione con Dio e quando è che se ne rese conto quando sulle ginocchia di Dalila per la terza volta ingannato disse io ne uscirò come le altre volte ma c'è un terribile verso che dice egli non sapeva che lo spirito di Dio si era ritirato da lui non lo sapeva perché lui era abituato a Dio ma non frequentava a Dio tu sei abituato a frequentare una chiesa ma non sei abituato a essere benedetto da Dio non sapeva che lo spirito si era allontanato da lui Giuseppe e Maria non sapevano che Gesù si era allontanato dice così la Bibbia non se ne resero conto alla loro insaputa verso 43 Gesù si allontanò Gesù si allontanò dai genitori lo spirito di Dio si allontanò da Sansone Dio si ritirò da Saul e vi ricordate Saul quando se ne accorse quando tenevi i filistei addosso e lo signore non rispondeva ma dove sta Dio perché non mi risponde vi ricordate Saul dove va dalla invocatrice di spiriti che era a Enghedi per far salire a Samuele è emblematica la frase che usa dice per favore fai salire lo spirito di Samuele perché Dio non mi risponde quante volte hai detto onesto non lo devi dire a me non devi alzare la mano ma dillo nella tua vita quante volte hai pensato e hai detto a me Dio non mi risponde io vorrei invitarti a fare una riflessione ma tu Dio dove lo hai lasciato qual è l'ultima volta che lo hai invocato con tutto il tuo cuore che lo hai cercato quando è l'ultima volta che hai aperto il tuo cuore e hai pianto nella sua presenza l'abitudine ti fa distrarre la distrazione ti fa scadere nel peccato il peccato è per antonomasia separazione da Dio vedete come Gesù si separa dai genitori dice la Bibbia addirittura che camminarono un giorno intero perché loro davano per scontato che Gesù stava nella comitiva